Assegnata a Coverciano la panchina d'oro, alla giudicarsi il premio è il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Grazie davvero, un grande orgoglio, un premio così prestigioso non posso non condividerlo con lo staff, con tutti i giocatori, con il presidente Percassi perché è frutto del lavoro di tutti quanti, direi di Bergamo tutta perché quello che abbiamo fatto come stagione va condiviso sicuramente con tutti che hanno fatto la loro parte, è un pezzetto di questa stagione per noi eccezionale. Una dedica la voglio fare anche una volta tanto raccogliendo anche l'invito di Renzo, ma non per tenerezza, io non sono così tenero, ma sicuramente a tutti gli allenatori. Perché la nostra è una professione veramente difficile, veramente complicata sotto tutti gli aspetti, dove ci sono tantissime tensioni, tantissime difficoltà, dove passiamo soprattutto la domenica magari a dormire poco. Non solo quando si perde, a volte anche quando si vince non basta. E quindi è una dedica a tutti quanti noi, che però dobbiamo sempre pensare che siamo dei privilegiati e quando arrivano soddisfazioni come queste sono veramente grandi. Grazie. A margine della premiazione, il numero uno degli arbitri, Marcello Nicchi, torna sulle polemiche dopo Juventus Fiorentina. Presidente, con me il sonno. Ah, c'era? Ah, non l'ho visto io. No, non ho parlato sicuramente con lui perché non l'ho visto. Bene, allora possiamo andare? Qual è la sua valutazione? L'ha vista la gara? No, non le guardo le partite. Però quando il presidente si fa sentire così in maniera... Che ne pensi? No, le chiedo a lei. No, io non ho da esprimere niente. Io dico semplicemente che non abbiamo da aggiungere niente di quello che avete a conoscenza voi. Dico semplicemente che gli arbitri italiani sono, usando un termine di chi l'ha usato, disgustati da questo comportamento. Grazie, arrivederci. Sembra che ormai sia stato deciso. Walter Mazzarri verrà esonerato. Manca solo l'ufficialità, ma il divorzio tra il tecnico e il Torino sembra inevitabile. Già dopo la sconfitta contro il Lecce, il direttore generale del club piemontese, Antonio Comi, aveva dimostrato molta insoddisfazione per la partita e aveva fatto intendere che la situazione doveva cambiare, affermando Non è il momento di parlare, ma dobbiamo solo riflettere, e riflettere molto. La partita di questa sera è stata inaccettabile, con un atteggiamento dei ragazzi che non era quello che ci aspettavamo. Faremo la necessaria riflessione e poi vedremo. In cima alla lista dei possibili sostituti di Mazzarri c'è Moreno Longo, ex tecnico della Primavera Granata, con cui ha vinto uno scudetto e una Supercoppa di categoria. Pesa ancora come un macigno la sconfitta subita dalla Roma contro il Sassuolo. Dopo la prestazione orribile del primo tempo, nell'intervallo il direttore sportivo Petracchi è sceso negli spogliatoi per una sfuriata accesa nei confronti della squadra, che nel secondo tempo ha cercato di risollevare la gara senza riuscirci. Alla Roma però oggi sono tutti sotto esame, anche il DS che ha costruito questa squadra. Nel frattempo lo stesso Petracchi è stato assolto dall'accusa di violazione dei principi di lealtà, correttezza e proibità per il trasferimento dal Torino al club giallorosso. La Procura federale ha infatti ritenuto di non procedere e ha archiviato il fascicolo, ritenendo che non ci siano stati comportamenti non in linea con i principi di lealtà da parte del direttore della Roma. Anche per la società viene a decadere la responsabilità oggettiva. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS